Certo, perché tra le tante cose che succedono, oltre a quella che non si fa la lotta all'evasione, non si fa la lotta al sommerso, si ricomincia a parlare di condoni e tutte le cose che ben conosciamo che certo non aiutano la legalità di questo Paese, noi consideriamo l'idea che dei soggetti privati possano violare la legge un tema di legalità e di funzionamento istituzionale, oltre che uno straordinario problema di diritto del lavoro.